si? un paziente un policino quanti anni ha? due ha qualche allergia alla gallina allora niente galline prego paziente allora vediamo paziente cinquattro strumenti? c'è un po' di sangue allora dobbiamo ma il dentista sei tu Nikita o? io sono l'assistente dai per favore dottore facciamo la visita prima risciacquiamo i denti prima controlliamo se c'è qualche problema se non c'è nessun problema non serve niente d'aiuto ha un po' di carie o no? ha soltanto un po' da risciacquare dopo ma c'è qualche carie dottorare? ma piccolo ok allora curiamo ok adesso mettiamo un po' prendi per favore adesso dottore strumento dobbiamo fare un trapolo ora dobbiamo chiudere il sangue che c'è qui e poi si fa no no sai dove? eh dottore fa lei apri un po' la bocca apri un po' la bocca no dico qua c'è la ok dopo curiamo la carie se c'è una cosa uguale che si gonfia il dente le lo buccheremo e le mettiamo dentro il cotone paziente ha un po' paura per favore curiamo carie allora questo è dentino di latte quasi tutto finito? no ne ha tantissimi allora cura la anestesia perché è un po' paura mettiamo anestesia vabbè putta vabbè dai finiamo non c'è qualche paziente dai tienilo in bocca questo affare ok si fa così ok ok ora c'è ti 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 pronto com'è? c'è una carie? una minuscola o ha bisogno di togliere i denti? apri la bocca poi li guardiamo puoi anche chiudere ok mi sembra dottore ha bisogno di togliere un dente togliamolo? si qua la pinza passa il pixel dove è il pixel? ecco la nostra prima mettiamo lì dentro un po' di sciroppo così ne sembra un po' ora prepariamo la puntura mettiamo non si sente niente è buona questa puntura si vedi che lei ha un buon dottore perchè gli ho messo la crema ah perchè hai messo la crema eh si questo è il segreto che gusto aveva la crema? di fragola e di frutti di bosco frutti di bosco e si non ha allergia e di carne dovrebbe essere in questo caso ora non sentirai niente no non hai paura non sentirai niente proprio niente apri un po' la boccuccia oh un dente giallino lavarlo bisogna lavarlo ancora? mi ero confuso a dirlo perchè c'è un po' di infezione bisogna lavarlo bene se no li viene se li fa lavarlo bene così così e lo bagno un po' guarda che mi fa tossire il sangue basta basta la dente guarda lì oh mamma vediamo che si fa tossire il sangue cotone serve cotone dove hai cotone? è urgente urgente cotone dov'è? tovagliolo è successo che lì ci ha gonfiato il dente è vero? si ho bisogno di mettere questo perchè l'ho buccato metterlo dentro ciao ciao da canale di Nikita mettete i like e iscrivetevi a tutti i canali di Nikita ciao ciao e dai è bravo il nostro Wally bravo bravo Wally sto estratto bravo dal dente poverino